Più di 6.800 multe in un anno e tre mesi. Sono i verbali per le violazioni rivelate con le telecamere installate nei varchi ZTL e Pesaresi tra il 1 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. I varchi monitorati sono 11, collocati nei punti di accesso al centro storico della città. 125 invece le telecamere in tutto il territorio comunale, 11 di queste hanno anche il Targa System. Dopo aver ultimato il progetto di implementazione verranno installati anche altri 8 nuove varchi di letture targhe così da formare una vera e propria cinta intorno alla città. Tre i nuovi progetti che sono stati approvati dalla prefettura riguardano uno Viale Trieste lato nord nella zona mare e un altro il Parco Miralfiore, area esterna ed anche intorno al parco, un territorio, quello del Miralfiore, che necessita di avere un maggiore controllo per garantire più sicurezza ai cittadini. Un nuovo impianto inoltre è anche previsto per il sottopasso dei cappuccini. Il tutto andrà così ad incrementare il sistema di videosorveglianza della città e di pari passo la sua sicurezza.